bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video mamma mia ragazzi io sono Xyuder e oggi amore mio dove siamo dove siamo mamma mia ho più voce per farlo non ci entravamo da un bel po ragazzi ma non potevamo non mandarvi su al volo questo super video perché sono usciti due che vi danno ragazzi un sacco un sacco di roba interessantissima prima di darveli ragazzi vi ricordiamo di mettere un bel like a questo video se ne volete vedere altri in anteprima e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto allora amore mio spiegagli mentre io mi copio il promo dove devono andare dovete cliccare sul vostro livello di gioco una volta cliccato ci sono tre opzioni codice promozionale schiacciate e poi cliccate direttamente sul codice e scrivete il nome andiamo a inserire il primo ragazzi super ciccio 89 andiamo a provarlo andiamo a provarlo shaman 300 di gold e già questi sono veramente utilissimi ma non contenti ragazzi ne abbiamo un altro cattivissimo pronti così dai leggilo brava dwarf slayer andiamo a metterlo ragazzi pooh arrivano 15 golas guardiano ragazzi veramente veramente utile se usate ovviamente golas guardiano beh ragazzi questo era proprio un micro video sparatovi sopra per i due nuovi codici noi vi ringraziamo per essere rimasti qua mi raccomando like iscrivetevi ciao 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 ciao